Tre variazioni al bilancio di previsione sono state approvate stamani dal Consiglio Comunale di Giuliano. Si tratta di canoni di locazione 2014, vigilanza del centro sportivo Antares e riqualificazione delle cosiddette stecche pesanti di Casacelle. Due punti sono passati all'unanimità, mentre un altro a maggioranza. Polemiche sono sorte infatti sulla sorveglianza del nuovo centro sportivo di Campopannone. L'opposizione ritiene eccessivo l'importo di 180.000 euro per vigilare sulle opere in attesa degli affidamenti delle strutture. Questi soldi, questi 180.000 euro, oltre ad apparire esosi per un servizio di vigilanza per soli quattro mesi in una struttura appena consegnata al Comune in attesa di gara, vengono sottratti a due ambiti che riguardano l'ambiente. Uno è la pulizia delle catitoie per circa 80.000 euro e un altro 100.000 euro viene sottratto dalla manutenzione idrica. Abbiamo lanciato una proposta, si potevano prendere questi soldi come è stato fatto in passato dal fondo riserva, che è un fondo che sta lì e che per fine anno deve essere consumato, altrimenti rischia di restare inutilizzato. La maggioranza, chiaramente, come spesso è abituata a fare, non ha voluto sentire ragioni e andata avanti. Ci sono una serie di considerazioni che abbiamo fatto, sono sia di carattere tecnico, amministrativo, ma anche di carattere politico. Politicamente abbiamo ritenuto inopportuna la variazione perché sono state distratte delle somme da capitoli di bilancio importanti e soprattutto anche per l'entità della somma stanziata per quanto riguarda il servizio che deve essere espletato per circa 3-4 mesi è stata prevista una somma di 180.000 euro complessivi. E soprattutto, voglio dire, noi aspicavamo che si procedesse nel più breve tempo possibile o che comunque l'amministrazione si fosse fatta trovare pronta già con gli atti predisposti per il bando e quindi per l'assegnazione già della struttura. Per il sindaco invece bisogna evitare in tutti i modi di ritrovarsi con opere nuove già saccheggiate. Abbiamo avuto la consegna della struttura e abbiamo un ritardo nell'affidamento perché c'è stata la mancata sottoscrizione da parte di Sua Napoli della convenzione fino ai giorni prima delle ferie quindi siamo operativi di fatto con Sua Napoli dal mese di settembre e provvederemo alla gara che è già pronta da mesi. Noi dobbiamo evitare che Antares diventi l'ennesima struttura vandalizzata prima dell'apertura. Ne abbiamo ereditate tante. La struttura possa essere fiora all'occhiello della città e non dover piangere dal primo giorno i dati. Intanto registriamo una cosa che le guardie giurate messe lì hanno impedito già nei giorni scorsi ne avete dato ampiamente notizia della stampa, un furto e una delle guardie giurate è stata aggredita, malmenata e anche ferita dopo che aveva fermato uno dei ladri. Il Consiglio stamani si è tenuto in seconda convocazione visto che ieri mancava il numero legale in aula circostanza che ha fatto nuovamente vociferare su di una possibile crisi in maggioranza. Io invito gli stessi a non usare il Consiglio comunale come strumento per ricattare, se lasciatemi passare il termine chiaramente, per ricattare il sindaco ma di discuterne nelle sedi opportune perché è giusto che la politica abbia il dialogo, abbia dei momenti di confronto e anche dei rinnovamenti sia di carattere tecnico che di carattere politico. Per il primo cittadino la maggioranza è solida e non ci sarebbero problemi interni. Una serie di coincidenze e anche oggi qualche consigliere che è mancato per motivi personali, per un lutto in famiglia, qualche altro che aveva degli impegni che non poteva spostare. Oggi c'era una maggioranza tranquilla in aula, peraltro, per votare un atto necessario a difendere un bene pubblico e altri due di grande attenzione alle fasce deboli.